Uno dei problemi provinciali di Tarma è soprattutto il problema dell'organo, dei vari istituti provinciali. Qual è la situazione? Allora, stiamo aspettando il rinnovo dell'organico Covid, perché abbiamo bisogno di dividere specialmente l'infanzia in piccoli gruppi per lavorare in sicurezza e quindi abbiamo bisogno di insegnanti. Per il momento ancora non c'è l'organico Covid. È stato annunciato, ma ancora non ce l'abbiamo. Abbiamo delle scuole grandi senza dirigenti, abbiamo l'istituto comprensivo di Alba Driatica senza dirigente e senza DSGA, abbiamo anche l'istituto Corropili contro guerra colonnella e solo senza dirigente perché è stata trasferita e è venuta in città a Teramo. Abbiamo una nuova dirigente all'istituto, ne ho immesso il ruolo da concorso, quindi non solo, come si chiama quella? Lazzolina. Noi abbiamo una nuova dirigente che è all'istituto superiore, il Moretti, dove è stato immesso il ruolo anche una DSGA, un direttore amministrativo da concorso. E' una situazione a Teramo, città? A Teramo, città, per il momento manca il DSGA al Milli e al Pascal. Non il dirigente, il DSGA. Il Milli che riacquista però la presidenza. Sì, acquista la presidenza ed è venuta una nuova dirigente che è stata trasferita da Corropoli. Sono posti vacanti da completare ovviamente prima dell'inizio dell'anno. Sì, abbiamo ancora posti specialmente sostegno, sostegno e quindi fra pochi giorni dovrebbero uscire le nomine per i precari, sostegno, anche sostegno senza titolo. Quindi perciò abbiamo detto che per noi è un'occasione che l'Università di Teramo ha avuto 220 posti per fare il concorso, per fare il concorso, concorso per il TFA sostegno. E mi ricordi il nome e cognome? Io sono Lucia Di Luca. Lucia.